Sotto il cielo della politica è successo davvero molto oggi e soprattutto sul pratone di Pontida. Al raduno leghista ha parlato Bossi e di fatto ha mandato due belle lettere a Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti. Ha detto davvero molto Umberto Bossi da Pontida. A Berlusconi non ha detto che la Lega sarà ancora al tuo fianco nelle prossime elezioni se ci saranno delle elezioni. A Tremonti ha detto che bisogna riscrivere il patto di stabilità. Ha dettato le condizioni, ha dettato l'agenda Umberto Bossi anche se non ha strappato definitivamente ma sono condizioni che già fanno discutere e fanno discutere moltissimo. Lo aveva già anticipato ieri sera. Intanto quattro ministeri che la Lega vuole al nord e che naturalmente hanno scatenato le reazioni di chi non ha questa idea. Il sindaco di Roma Alemanno e poi anche Renata Polverini. E poi altre parole davvero molto nette. Naturalmente si è parlato della riforma fiscale, si è parlato dell'intervento in Libia, si è parlato di molti argomenti e Berlusconi è stato in silenzio fino a pochi minuti fa. Adesso sta iniziando a parlare, lo ha fatto dall'ospedale Niguarda dove è andato a trovare un militare ferito in Afghanistan. Che cosa ha detto Berlusconi? Ha detto intanto, sapevo quello che avrebbe detto Bossi ma non ci sono alternative a questa alleanza. Andremo avanti, lo faremo insieme, saranno ascoltate, prese in esame, alcune richieste fatte a Pontida. Lo farò già martedì e mercoledì, sarò al Senato e alla Camera. Esporrò il programma e il programma conterrà alcune di queste richieste fatte a Pontida. Insomma davvero i riflettori sono puntati oggi naturalmente sulla Lega. C'è stato Umberto Bossi ma c'è stato anche un altro protagonista di fatto forse molto più applaudito e acclamato di Umberto Bossi ed è stato il ministro Maroni, addirittura accolto con striscioni con su scritto Maroni, presidente del Consiglio. Poi naturalmente c'è stato tutto il popolo leghista, tutto il popolo padano con il suo folclore ma anche le sue richieste e il suo umore, il suo stato d'animo che naturalmente vi racconteremo. Naturalmente Pontida chiama le reazioni delle opposizioni che vedremo quali sono. Direi di cominciare subito dai titoli. A Pontida Bossi detta al PDL condizioni e agenda entro sei mesi giù le tasse e stop alla guerra in Libia. Sui ministeri al nord il premier se l'è fatta sotto. La folla chiede se cessione e il senatore fa il pollice verso. Non è detto che alle prossime elezioni staremo con Berlusconi ma frena sul voto anticipato. Ora vincerebbe la sinistra. Nella base leghista c'è voglia di premiership. La gente chiede meno tasse, più sgravi fiscali e quote latte, meno spese per la politica. Sullo sfondo lo striscione Maroni, presidente del Consiglio. Il ministro dell'interno è l'unico in giacca e cravatta. Applausi quando dice basta guerra in Libia. Produce solo clandestini. Berlusconi minimizza. La nostra alleanza non ha alternative. Proseguiremo la legislatura e accoglieremo alcune richieste di Pontida. Ma alla vigilia della verifica in Parlamento c'è malumore tra i colonnelli romani del PDL sui ministeri al nord. Il sindaco Alemanno attacca. Non sacrificheremo Roma Capitale per salvare il governo. Il discorso di Bossi lascia tiepido. Il centrosinistra, PD e Italia dei Valori parlano di folflore, propaganda. Il senatore non controlla più gli umori del suo partito. Casini concorda. Più che Pontida conta quello che dicono Bruxelles e Modi. Se attacca la verità è che Bossi tira a campare perché è prigioniero di Berlusconi. Stretto tra la maggioranza che chiede di aprire i cordoni della Borsa e l'Europa che raccomanda a austerità il ministro Tremonti. Cerca di smarcarsi e anticipa subito la manovra triennale da 40 miliardi. Il piano atteso per fine giugno prevederebbe tagli per evitare il rischio grecia. Confindustria flauta. E si apre un fronte romano nell'inchiesta sulla P4. I PM di Napoli trasmetteranno alla Procura della Capitale gli atti sugli appalti e presunte interferenze sulla RAI. Luigi Bisignani al centro del sistema di presunti ricatti sarà interrogato domani dal giudice che lo ha messo agli arresti domiciliari. E allora di nuovo buonasera. È stato il giorno di Pontida, è stato il giorno della Lega. Sono arrivate le parole molto attese, in parte già preannunciate. Ieri sera da Umberto Bossi è arrivata la sferzata che i militanti della Lega chiedevano e poi in seguito è arrivata anche la risposta di Berlusconi, esattamente poco fa. Bossi ha detto molte cose, intanto ha messo in discussione di fatto la premiership di Berlusconi. Ha detto che bisognerà vedere se alle prossime elezioni la Lega sarà ancora al tuo fianco. E poi con due telegrammi, caro Silvio e caro Giulio, le ha dette e ha dettato soprattutto l'agenda per i prossimi mesi. Salutiamo l'agenda con il Daniele, Umberto! Promessa al suo popolo da Bossi, avvisi ma non ancora di sfratto al governo. A Berlusconi e Tremonti la richiesta di un giro di boa in 180 giorni, con tanto di scaletta volantinata sul pratone. Caro Berlusconi, la tua premiership è in discussione dalle prossime elezioni, se non vengono approvate una serie di cose. Poco più di mezz'ora parla Bossi, più una serie di slogan che un discorso, sette volte interrotto dalla folla al grido di secessione. Allora, volete la secessione ci si prepari. Se andiamo adesso alle elezioni, se facciamo anche a dire per lo scorpio di andare subito a votare. Questo è un momento favorevole alla sinistra. Ed è tutto un tira e molla quello del vecchio capo, che dopo le battoste elettorali è la voglia di mollare il governo della base leghista, a seconda l'orgoglio padano. Siamo al 10%, altro che lega rotta, come dicono i giornalisti lecchini di Roma. Sul futuro decideremo insieme, niente è scontato. Berlusconi, diciamo, la premersi di Berlusconi può darsi che la lega dica stop. Ma tira subito il freno alla folla che risponde al pollice verso, gridando Maroni presidente. Noi, noi non ci prenderemo, non ci prenderemo la responsabilità di far andare il malore al paese. E allora le richieste al premiere a Tremonti, uno strappo evidente dopo anni di colleganza tra il ministro più padano del PDL e il Carroccio. La pressione fiscale ha superato ogni limite a Taccabossi, Tremonti ha fatto cose vergognose che neanche la sinistra aveva fatto. Metteremo un freno a Equitalia, subito da rivedere il patto di stabilità che penalizza i comuni virtuosi. Entro l'anno va fatta la riforma del fisco. Caro Giulio, noi possiamo avere ancora i voti della Lega in Parlamento, nelle tue proposte di legge, di cose che non puoi toccare più, i comuni, gli artigiani, gli artigiani e le piccole imprese. Non manca la lisciata agli allevatori sulle quote latte. Andate con i trattori a Roma fuori dal Parlamento a pigliare quei delinquenti. Chi come Casini vi dà dei ladri. E ancora i soldi da trovare, tagliando le bollette energetiche e i costi della politica. Due settimane al governo per una legge che di mezzi parlamentari e per un decreto che taglia le missioni militari. Libia in testa. Basta pensare che la guerra in Libia a noi ha costato un miliardo di euro, tra guerre, tra bombe e immigrati che abbiamo dovuto recuperare. Il premier, convitato di Pietra Pontida, riceve dunque tanti avvisi e con data di scadenza, ma solo un affondo, quello sui ministeri da trasferire al nord. Vi devo dire la verità. Berlusconi doveva darci lui, anzi aveva già fermato il documento, poi segregato sotto. Ecco, come sempre Bossi non usa mezzi termini, ma torneremo più avanti sul nodo dei ministeri, che di fatto è il nodo che crea più malumori, poi all'interno della maggioranza stessa. C'è stato oggi uno scontro verbale molto duro tra il sindaco Alemanno e alcuni esponenti leghisti, poi ve lo mostreremo. Ma dicevamo, ha parlato naturalmente il capo a Pontida, ha parlato Umberto Bossi, ma ha parlato anche il ministro Maroni, un Maroni accolto con uno striscione che recitava Maroni, presidente del Consiglio. Un Maroni forse più defilato, ma probabilmente più acclamato dello stesso Bossi. Viva la Lega! Il capo ha già detto tutto, ha mandato messaggi molto chiari e molto forti. Il vero vincitore forse è lui, Roberto Maroni, ministro dell'interno, accolto sul pratone di Pontida dalla scritta Maroni, presidente del Consiglio. L'unico dei dirigenti del partito salutato con un particolare affetto dall'immensa folla. Bossi lo ha stuzzicato spesso. Allora, trasferisci con me Calderoli il tuo ministero a Monza? Lui, l'unico in giacca e cravatta, seppure d'ordinanza, ha sempre risposto con un sorriso, finché è salito sul palco per fare un vero comizio dedicato agli importanti risultati raggiunti dal suo ministero e prendendosi i meriti in prima persona. Noi abbiamo inventato i respingimenti, li ho inventati io quando in Libia c'era un governo. Non ne sono più arrivati. Maroni ha ricordato che bisogna rivedere il patto di stabilità per recuperare soldi da investire nella sicurezza. Per fermare l'immigrazione clandestina ha detto bisogna fermare i bombardamenti in Libia, ma ha aggiunto purtroppo siamo soli in questa lotta all'immigrazione. Il problema è la Libia, come ha detto Umberto Bossi. Là c'è la guerra, ci sono le bombe, ci sono i missili, che non sono intelligenti i missili, non sono intelligenti. Li abbiamo contro tutti, abbiamo contro la Nato, abbiamo contro l'Europa che non ci aiuta, abbiamo contro la magistratura, tutta a favore dei clandestini. Dopo aver dato una stoccata a chi, lui li ha chiamati gufi romani, da giorni continuano a ripetere che a Pontida non sarebbe arrivato nessuno, ha concluso. Noi abbiamo un grande sogno, la padania libera e indipendente, viva la Lega! Una frase che ha mandato invisibile i leghisti che vedono in lui il dopo Bossi. Allora, da sempre Pontida è partecipazione, passione per alcuni folklore, non di certo per i militanti che anche oggi hanno affollato il pratone. Su quel pratone sono appunto tornati a risuonare gli applausi, gli echi, gli slogan e soprattutto una parola, secessione. Secessione! 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 Il mal di pancia della base leghista è dentro quel grido secessione che per ben sette volte interrompe il discorso di Umberto Bossi, sorprendendo forse anche lui. Andiamo da soli, libertà, fora dei bal, sono gli slogan, dal prato di Pontida sale la rabbia per l'alleato Berlusconi. Bisogna eliminare la zavorra che abbiamo ai piedi. Berlusconi? È questa la zavorra? No, sì, certo, quella è la zavorra e bisogna cercare di eliminarla. È ora di far chiarezza con Berlusconi. È ora di pensare anche di andare da soli se non ci dà le riforme che vogliamo. Poteva essere il giorno della contestazione a Bossi e alla Lega, ma la base non fischia i suoi. Solo quando il leader del Carroccio dice che non è il momento di far cadere il governo, qualcuno contesta. I militanti arrivano all'appuntamento con molte aspettative per le parole del senatore, capo indiscusso nonostante i tanti striscioni su Maroni, presidente del Consiglio. Sono state smentite le previsioni che davano il popolo leghista così deluso da non partecipare al raduno. Il prato si riempie quasi subito, ma la rabbia per le sberle prese in questi ultimi mesi e per l'operato del governo c'è. Tutti si aspettavano forse delle parole da Umberto ancora più decise. Comunque l'insuccesso elettorale delle elezioni amministrative, anche da noi, delle alleanze obbligate con il PDL si sono dimostrate assolutamente fallimentari. Salamella e birra chiudono la giornata di Pontida che a tratti assomiglia a una sagra di paese. Intorno alle due si torna a casa con l'auto o col trattore. Il popolo leghista crede ancora nel suo capo e confida che quelle sentite oggi non siano solo parole. E su quel prato e in quegli stand in cui i Gazzabio si raccoglievano le firme per i famosi ministeri. Cioè richiedere appunto di portare quattro ministeri e di spostarli da Roma al nord. Perché di fatto è stato questo il nodo che ha scatenato moltissime polemiche. Per spostare i grandi ministeri ci vuole una legge. L'abbiamo depositata il 6 di giugno in Cassazione. Io non voglio portare 50.000 firme, quelle previste dalla legge. Dobbiamo portarne di milioni di firme in modo che anche Alemanno, la Polverini e il Palazzo capiscano. Sui ministeri al nord Calderò li rilancia dopo che Bossi aveva già buttato lì l'ultimatum. 3 a Monza, 1 a Milano. Berlusconi aveva firmato ma poi se l'è fatta sotto la frecciata ancora del Senatur. Uno stop che la Lega ora vuole aggirare. Possibile? Veramente la Lega cerca lo scontro frontale o è solo una provocazione? La cosiddetta anima romana del PDL non ci sta. Durante lo speciale del nostro telegiornale dedicato al raduno di Pontida la replica del sindaco Alemanno scatena una polemica furibonda. Non capisco perché di fronte ai problemi veri si vada per la tangente con questo e boiato ai ministeri e se non solo dividere l'Italia. Stavo semplicemente chiedendo al signor Alemanno un po' di rispetto. Prima di parlare di boiate, di ministeri, si sciacqui la bocca. Questo è l'invito cortesissimo che da Pontida mi sento di fargli. E di fatti ho detto che la questione dei debiti del Comune è solo una cosa seria. Quello che tu hai detto è una cosa seria. I ministeri in giro per l'Italia sono una boiata. Una cosa di vera. Ho detto esattamente il contrario. I sindaci di tutta l'Italia che hanno la possibilità di spendere, sono comuni virtuosi, hanno tutta la mia solidarietà e devono spendere i soldi che hanno nel cassetto. La boiata è un termine che non mi piace. E avere un po' di potere, qualche autority, l'autorità della borsa, una rete RAI, insomma, portare via qualcosa di quello che Roma si è portata a casa in 50 anni non mi sembra che sia una bestemmia o un reato. Alemanno al baratto non ci sta. Il sindaco annuncia il suo pieno sostegno alla petizione popolare promossa dalla presidente della regione Lazio Polverini contro lo spostamento dei ministeri. Se insomma la Lega cerca il braccio di ferro, il sindaco di Roma non si sottrae pronto a portare il caso in Parlamento. Non si può sacrificare una capitale per tenere in piedi il governo nel caso cada, dice Alemanno. Posizione intransigente che trova una sponda importante nel capogruppo PDL alla Camera Cicchizzo. I ministeri non possono non rimanere a Roma. È possibile però lavorare su un decentramento di sedi che era un'ipotesi che già avevamo esaminato. Il PDL non cede, la Lega nemmeno. Lo strappo per ora non è consumato, ma dopo Pontida le sue quotazioni salgono al borsino della crisi. E lo vedremo tra poco perché appunto martedì e mercoledì saranno giorni incandescenti al Senato e alla Camera appunto dove c'è la famosa verifica richiesta dal Capo dello Stato e dove appunto Berlusconi proprio poco fa, tra poco lo sentiremo, ha detto porterò nel programma alcune richieste di Pontida. Staremo a vedere se tra quelle richieste ci sono anche i ministeri oppure in quale forma verranno spostati questi ministeri se solo come uffici di rappresentanza per esempio come fino a questo momento è stato detto dallo stesso Berlusconi e anche da Alfano. Ma naturalmente oggi ci sono state anche le reazioni dell'opposizione delle opposizioni a quanto è accaduto a Pontida. Il PD parla di una stanca propaganda, l'Italia dei valori per esempio parla invece di tutto fumo e niente arrosto. Un intervento deludente che però fotografa la crisi dell'attuale maggioranza. Stanno tutte in questa sintesi le reazioni dei partiti di opposizione al discorso di Bossi a Pontida. Dal palco, dice Massimo Donati dell'Italia dei valori, sono giunte le solite baggionate condite dal trito e ritrito armamentario retorico e immaginifico del carroccio. Ci aspettavamo indicazioni strategiche più incisive e vigorose per rilanciare l'azione di governo. A Palazzo Chigi avranno tirato un sospiro di sollievo, gli italiani invece, con crude Donati, continuano a stringere la cinghia. Per il Partito Democratico, oggi il senatore dimostra di aver fallito, di essere debole e di non sapere più cosa inventare per riprendersi il controllo del partito. È chiaro ormai che l'alleanza tra Bossi e Berlusconi sta morendo, da Pontida un segnale debole e contraddittorio, Bossi ancora prigioniero di Berlusconi, piuttosto di un caos di governo, è meglio andare ad elezioni anticipate per il bene di questo paese. Ancora più dura a sinistra Ecologia e Libertà, la Lega, spiega Gennaro Migliore, rappresenta un mondo in putrefazione che bercia e insulti e non fa paura a nessuno. Tanto rumore per nulla, Bossi vomita vecchi slogan impotenti ed è prigioniero di Berlusconi, grida secessione e mobilita il popolo dei Padani, ma in realtà non riesce neppure a far muovere i suoi parlamentari. Critiche arrivano anche dal terzo polo, per Francesco Rutelli, dopo il triste incontro di Pontida, il governo è al tutti contro tutti. Bossi si è arrampicato sugli specchi, ha chiesto ai ministeri in Lombardia perché non voleva rispondere alla questione vera che gli ha posto con forza al popolo leghista. Stacchiamo la spina Berlusconi a questo governo che non sta dando risposte al nord. Anche Bossi tira a campare, aggiunge Adolfo Urso di Futura Libertà, che però avverte sbaglia chi ride al Bossi pensiero perché sperava nel ribaltone, ma anche chi minimizza per lo scampato pericolo. Se il centro-destra non farà subito le riforme, resteranno solo le macerie. Ma c'è un altro protagonista di questa giornata, sicuramente molto defilato, ma è stato citato da Umberto Bossi e non è stato citato a caso. Caro Giulio, riferendosi a Tremonti, ha detto Umberto Bossi, anche tu in qualche maniera devi stare attento, devi riscrivere il patto di stabilità, non ci possono solamente rimettere i comuni, le province, insomma quello che avete sentito dal discorso di Bossi. Ed è un Tremonti attento soprattutto alla prossima manovra finanziaria, una manovra da fare, lo ha già anticipato Tremonti questa mattina, una manovra da fare subito, soprattutto dopo l'allarme di Modis che minaccia di declassare il nostro paese. Gli hanno chiesto di tagliare le tasse, lui invece ha blindato la manovra ed è partito per il Lussemburgo, impossibile con un gesto essere più chiari. Ha cerchiato sotto pressione Tremonti e è stato dipinto così per giorni. Ma quando questa mattina il raduno di Pontida doveva ancora avere inizio, bastava leggersi le soffiate di Repubblica, veicolo che non pare casuale, per capire che se il ministro ha una priorità è quella di fare la manovra da 40 miliardi di euro per il pareggio di bilancio entro il 2014 e farla subito entro l'estate. Un rilancio marmoreo sulla linea del rigore che dopo una settimana in cui l'hanno tirato per la giacchetta tra cene e convegni invitandola al coraggio a più di qualcuno non sarà piaciuto. Ma è questa la risposta all'allarme di Modis e quindi al mondo oltre Pontida. Non è servito che Cisle e Will ieri scendessero in piazza tanto meno che oggi lo facesse la Lega su un prato a lei sacro. Giulio facciamo la riforma fiscale, stoppiamo l'intervento in Libia e recuperiamo un miliardo. Ma Giulio ha preferito rispondere ai mercati che riaprono domani mattina allergici a ogni minimo sussuro di contagi alla greca. In fondo quelli di Modis come Standard & Poor's dicendo che l'Italia è una sorvegliata speciale a rischio e retrocessione a Tremonti hanno fatto un favore. Così come glielo fa oggi Confindustria la maggioranza trovi coesione sul piano del ministro dice una nota. L'Italia deve mantenere gli impegni con l'Europa. A consulto per un'altra fetta di aiuti alla Grecia da 12 miliardi proprio l'Europa oggi ha visto perciò arrivare il ministro con il bagaglio della disciplina dei conti pubblici in vista dell'11-12 luglio quando Tremonti vorrebbe tornare con il pacchetto completo. Questione di giorni e passata la verifica se passa in Consiglio dei Ministri dovrebbero approdare i primi provvedimenti per pedalare verso un'approvazione del Parlamento prima della pausa d'agosto forse con voto di fiducia. Il menù prevede taglia i costi della politica risparmi sulla sanità per 5 miliardi altri 5 sulle spese dei ministeri probabile una nuova stretta sul pubblico impiego e poi c'è quella tentazione di aumentare a 65 anni l'età pensionabile delle donne anche nel settore privato. Qualcuno teme anche patrimoniali o tassazione delle rendite finanziarie perché 40 miliardi sono tanti e trovarli non è facile. Bossi forse riuscirà a strappare a Tremonti l'allentamento del patto di stabilità per i comuni virtuosi quasi tutti al nord contentino in nome della vecchia amicizia altri tempi quando li vedevi così. Allora Berlusconi sta parlando ve l'ho annunciato poco fa di fatto si è recato all'ospedale Niguarda di Milano per andare a trovare l'alpino ferito in Afghanistan e tra l'altro ha parlato proprio anche dei conti ha detto il governo presenterà un programma impegnativo per far fronte a una crisi che non è ancora finito ma soprattutto Berlusconi ha risposto di fatto alle parole di Bossi. si è verificato quello che lui mi aveva annunciato e cioè un'assoluta conferma del fatto che la nostra alleanza non abbia alternative e la volontà di proseguire nella legislatura operando quelle scelte quelle decisioni su cui c'è un accordo consolidato quindi io mi presenterò martedì e mercoledì prima al Senato e poi alla Camera illustrerò il programma che è ormai definito che comprenderà anche alcune delle richieste che sono state esplicitate oggi da Umberto Bossi a Pontida non abbiamo nessun dubbio sul fatto che la maggioranza in Parlamento ci mantenga la sua fiducia una fiducia che dal 14 di dicembre ci ha espresso numerose volte e quindi andremo avanti per affrontare al meglio la presente crisi che non è finita e che ancora coinvolge le nostre imprese i nostri consumatori con quelle misure che ci appaiono come le più indicate per continuare a tenere i conti in ordine e a dare un supporto all'economia tutto qui non ci sono preoccupazioni che possono farci cambiare da questo percorso e credo quindi che continueremo così come avevamo previsto di fare a governare il paese avendo la Costituzione dato 5 anni a chi è indicato dagli elettori come responsabile del governo queste le parole di Silvio Berlusconi in parte appunto per rispondere anche a quanto aveva detto e quanto ha detto Umberto Bossi oggi a Pontida per la lunga pagina che vi abbiamo documentato adesso invece parliamo della inchiesta sulla cosiddetta P4 un'inchiesta che si sdoppia e arriva anche a Roma una parte di fascicoli e faldoni è in viaggio in direzione della capitale si biforca anzi raddoppia l'inchiesta sulla cosiddetta P4 che sta facendo tremare i palazzi del potere anche la procura di Roma dopo quella napoletana si occuperà delle indagini su questa presunta associazione segreta grumo occulto di potere ricatti che avrebbe influenzato nomine e appalti e che avrebbe visto al vertice il faccendiere Luigi Bisignani da mercoledì agli arresti domiciliari in tandem con il deputato PDL Alfonso Papa magistrato in aspettativa per cui è stata chiesta alla Camera l'autorizzazione all'arresto sotto la lente dei magistrati romani finirà anche la strana storia di un immobile in piazza del Parlamento che Bisignani sarebbe stato in procinto di comperare per la bellezza di 100 milioni di euro per conto della presidenza del Consiglio compravendita che sarebbe saltata in concomitanza con le prime voci sull'inchiesta napoletana e poi una ragnatela di appalti sospetti con enti pubblici che lambiscono ferrovie dello Stato poste e fin meccanica fino all'informatizzazione della stessa presidenza del Consiglio per questo a ereditare il fascicolo sarà il pool dei magistrati romani che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione coordinato dal procuratore aggiunto Caperna nel cuore dell'inchiesta ci sarà il capitolo delle presunte interferenze sulla RAI intercettazioni e interrogatori confermano come Bisignani fosse diventato una sorta di direttore generale ombra della RAI sostengono i magistrati e citano tra le varie circostanze la raffica di pressioni per ottenere la chiusura del programma anno zero di Santoro in un interrogatorio Bisignani ha ammesso mi interessava le vicende televisive perché convinto che Massi non fosse la persona giusta ma le intercettazioni di questi mesi rivelerebbero una stretta amicizia tra il faccendiere e l'ex direttore generale Bisignani sarà interrogato domani pomeriggio dal GIP Luigi Giordano che ne ha disposto gli arresti domiciliari l'avvocato ha già fatto sapere che il suo cliente non ha intenzione di tacere di fare scena muta insomma parlerà C'è un altro tema caro alla Lega ed è un tema che tra l'altro è stato di fatto protagonista di un duro scontro nel Consiglio dei Ministri di alcuni giorni fa è quello dei rifiuti è il tema dei rifiuti che riguarda Napoli la situazione è ancora di emergenza e con forti tensioni al presidio della discarica di Caivano non passano neanche 24 ore la prima soluzione al problema dei rifiuti di Napoli arrivata dopo un lungo tavolo istituzionale tra provincia comune e regione si dissolve sotto il sole questa ordinanza firmata oggi dal sindaco Udc di Caivano Antonio Falco rimette infatti in discussione il piano di emergenza e annulla in parte un'altra ordinanza quella del presidente della provincia Cesaro che aveva individuato tre siti di trasferenza dove portare i rifiuti napoletani i cancelli del sito di Caivano ha stabilito il sindaco resteranno chiusi per problemi di ordine pubblico e rischio igienico sanitario Napoli trovi i siti di trasferenza sul suo territorio noi abbiamo già dato dice Falco quindi i compattatori carichi di spazzatura bloccati già ieri con tanto di tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine sono di nuovo senza destinazione anche le due aree indicate ad Acerra non sono disponibili e proprio in questi minuti i consiglieri comunali di Acerra guidano una marcia di protesta verso il palazzo della provincia finora non hanno accolto neanche un sacchetto commenta Amaro il neossessore all'igiene ambientale di Napoli Sodano che vuole mantenere calmi gli animi lui che ha sempre guidato le proteste contro inceneritori e discariche e aggiunge se anche funzionassero tutti e tre i siti di trasferenza il problema sarebbe tutt'altro che risolto in effetti per legge questi siti possono ricevere i rifiuti solo per 72 ore poi si torna al punto di partenza dunque al momento la promessa del sindaco De Magistris pulirò Napoli in cinque giorni è una missione impossibile a tre giorni dall'annuncio nonostante il lavoro incessante degli operatori della SIA Napoli è sommersa da montagne di rifiuti dal centro alla periferia con gli impianti stir saturi e i siti di trasferenza chiusi De Magistris che ha già presentato il suo piano sulla raccolta differenziata non può fare miracoli ma il vero nodo da sciogliere ripetono da Palazzo San Giacomo è il decreto del governo ostacolato dalla Lega consentirebbe di portare rifiuti in altre regioni se ne dovrebbe discutere in consiglio dei ministri a metà settimana a meno che il ministro Calderoli non si opponga una seconda volta un ulteriore rinvio aggreverebbe la situazione oggi tra Napoli e provincia ci sono a terra almeno 10.000 tonnellate di rifiuti e allora avete sentito il tema come si lega poi appunto alla politica nazionale e alle posizioni della Lega vi abbiamo fatto ascoltare in apertura il discorso di Bossi anche le parole di Maroni perché un altro nodo citato è quello della Libia la Lega non ha mai voluto questa missione in Libia non è mai stata d'accordo e oggi sul prato di Pontida lo ha ribadito ma andiamo a vedere che cosa accade in Libia perché di fatto Tripoli accusa la Nato ci sono stati dei raid contro i civili dicono l'avete visto con i vostri occhi il disastro che ha combinato la Nato hanno bombardato le case di 5 famiglie di civili e hanno ammazzato tutti nella guerra quotidiana di attacchi e propaganda che da mesi va avanti in Libia da entrambi i fronti oggi parla il regime del Raist e lancia accuse pesantissime contro l'alleanza qui siamo a Tripoli e questo edificio secondo il portavoce di Gheddafi Ibrahim Musa sarebbe stato colpito per errore dai caccia della Nato provocando nove morti tra cui due bambini e una ventina di feriti per questo viene mostrato la stampa internazionale che poi sempre sotto scorta viene accompagnata nell'ospedale del quartiere è impossibile però per chiunque appurare se i corpi mostrati provengano davvero dall'edificio bombardato così come è impossibile verificare le accuse che ogni giorno vengono mosse dalla Nato e dalla comunità internazionale al regime di Gheddafi oggi dalle colonne dell'Observer ma questa è la guerra che si sta combattendo a due passi dall'Italia e sulla quale si stanno cominciando a interrogare non solo il governo italiano ma anche quello americano l'unica certezza per ora è che le bombe non si fermano anche se la Nato ha avviato un'indagine sull'accaduto che probabilmente però verrà catalogato come l'ennesimo come si dice in genere danno collaterale chiudiamo con la Superbike Melandri e Biaggi protagonisti appunto oggi di questa gara in Spagna hanno deciso tutti gli errori se ne sono avvantaggiati prima Melandri e poi Biaggi una vittoria ed uno sbaglio per uno con la consolazione di aver comunque fermato la corsa del leader del mondiale Carlos Ceca caduto in gara 1 e poi terzo proprio alle spalle di Biaggi e Melandri sono contento che abbiamo portato l'aprile a vincere la prima gara dell'anno ce ne meriteremo sicuramente qualcosina di più ma forse ce ne meritevamo qualcosina di più prima la moto spingeva e non ci stava era difficile passarlo ma avevo iniziato ad avvicinarmi per provarci sarebbe stata difficile però volevo provarci gli errori sono arrivati quasi per uno scherzo del destino in entrambe le gare al quindicesimo giro prima quello di Biaggi che dopo aver fatto il vuoto andava lungo la staccata del rettilineo lasciando strada a Melandri stesso episodio parti invertita in gara 2 con l'errore di Melandri che inseguiva il campione del mondo il vantaggio di Ceca ora è sceso da 72 a 43 punti nei confronti di Biaggi mondiale riaperto ci fermiamo c'è la pubblicità prima di chiudere vi diamo l'apertura la prima pagina della padagna di domani già c'è l'anticipazione ultimatum al governo e sarà questo appunto il titolo a tutta pagina che aprirà la prima del numero di domani della padagna sotto il titolo una foto campeggia una foto enorme del leader Umberto Bossi in camicia verde e con il pugno alzato adesso c'è in onda gli ospiti sono Svaldo Napoli del PDL Fabio Mussi di Sinistra Ecologia e Libertà Matteo Salvini della Lega e naturalmente di questo si parlerà arrivederci